Sono tanti, tantissimi, i lucchesi che in casa hanno un'opera di Riccardo Benvenuti, scomparso martedì pomeriggio a causa di un malore all'età di 79 anni. E questo dalla misura della popolarità e dell'affetto che Benvenuti, artista di calibro internazionale, godeva anche nella sua città. Aveva iniziato la sua carriera di pittore a soli 19 anni nel 1958 e nel giro di poco più di un decennio era diventato un artista apprezzato anche all'estero ed aveva avuto la sua consacrazione definitiva a metà degli anni 70 con le mostre a New York, Chicago e Madrid sulle donne delle opere di Giacomo Puccini. Ma contemporaneamente Benvenuti ha vissuto con profondità il rapporto con Lucca dove ha insegnato nelle scuole superiori ed ha mantenuto il suo studio prima in vicolo Tommasi, poi a Borgogiannotti. La pittura di Benvenuti era familiare a tutti noi perché penso che non ci sia lucchese che non abbia incontrato la pittura di Benvenuti. Ecco perché credo che da questo momento in poi la nostra città sia più povera, sia più povera di un'espressione artistica che ha avuto per tutti noi grande significato. Conosciutissime le sue donne, volti ora misteriosi, ora familiari, sempre evocativi ed i suoi calendari. Da 15 anni realizzava quello per l'Arno, l'Associazione per la Ricerca Neurologica ed il calendario 2019 sarà presentato postumo sabato 24 novembre all'Hotel San Luca. L'ultimo anno per lui era stato molto duro per la scomparsa della moglie Anna e della nipote Alice portata via da una malattia a soli 19 anni. Riccardo Benvenuti lascia tre figli ed una comunità che non potrà dimenticarlo.